E' stata una partita surfetta, loro ci aggredivano alti, erano abbastanza motivati, volevano cercare di fare risultato, però noi l'abbiamo vinta anche con l'esperienza. Io so' contento di essere ritornato perché il Cottini per me è tutto, siamo partiti dalla 2, siamo arrivati in Serie A con tanti sacrifici, tanta voglia di arrivare e alla fine eccoci qua e so' contento di essere ritornato. Il gol lo dedico a diverse persone, in primis al presidente Francesco Stebbano che è lui che mi ha voluto fortemente a ritorno, poi c'è Stefano Fradini, poi c'è anche Stefano Vaccari e poi in ultimo ma non in ordine di importanza c'è mia figlia con la mia compagna, mia figlia è nata da un mese quindi il gol è anche suo. La punta che stanno cercando non lo so, non mi sento punta, però spero di aiutarli tanto perché comunque ci teniamo a fare bene e ad arrivare fino a un fondo con questa competizione.